Lasciamoci attirare da Dio Padre verso di Lui, non chiudiamo il nostro cuore come i dottori della legge che si confrontano con Gesù, che erano orfani perché non avevano un rapporto con il Padre. Così Papa Francesco ha commentato la liturgia di oggi nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta. Un cuore aperto a Dio, ha detto il Pontefice, è capace di accettare le novità portate dallo Spirito, come quello di Barnaba che, raccontano gli atti degli Apostoli, non si scandalizza della conversione dei pagani che cominciano anche ad annunciare Cristo e si lascia attirare dal Padre verso Gesù. Gesù ci invita a essere i Suoi discepoli, ma per esserne dobbiamo lasciarci attirare dal Padre verso Lui. E la preghiera umile del Figlio che noi possiamo fare è, Padre, attirami verso Gesù. Gesù, Padre, portami a conoscere Gesù. E il Padre inviarà lo Spirito, aprirci il cuore e ci porterà verso Gesù. Gesù, un cristiano che non si lascia attirare dal Padre verso Gesù, è un cristiano che vive in condizione di orfano. E noi abbiamo un Padre, non siamo orfani. Gesù. Tutti un cristiano che vive adattaci almeno o controllo conoscenza del Padre verso Gesù, 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 Gesù. Gesù.